Il giorno del fatidico sì organizzato nei minimi dettagli con un'attenta regia che non lasci nulla per l'evento più importante della vita, esperti del settore wedding raccolta nella splendida masseria San Radino i Cattaro per la quarta edizione di Un'emozione per sempre. Il contenitore dedicato ai futuri sposi ideato da Angela Giacobelli e Maria Panza si conferma ancora una volta una manifestazione di consolidato successo. Un'emozione per sempre è questo contenitore di professionisti del wedding, in questa quarta edizione come sempre abbiamo scelto ben nove professionisti del wedding, ognuno con delle caratteristiche particolari e soprattutto la professionalità. Dal servizio wedding ovviamente c'è poi il servizio della band perché in un matrimonio la musica è quanto di più importante ci sia per la migliore riuscita abbiamo poi un servizio di florist, abbiamo ancora un'ottima, meravigliosa fotografa con uno staff molto molto professionale per catturare i momenti più belli e ancora un servizio di photo booth, tutto ciò che è il divertissement abbiamo un ottimo disegnatore bravissimo, un caricaturista, moltissima, la tendenza importante in questo momento è proprio l'animazione e l'ambito di un evento ottima musica, ballerini, caricaturista, photo booth, chi più ne ha più ne metta. Angela come ti è venuta questa idea? Quest'idea è venuta a me, a Maria Panza perché comunque occupandoci di wedding lei come manager di una band e io come wedding abbiamo pensato di dare modo a varie professionalità di esprimere al meglio il proprio lavoro. Obiettivo realizzare il ricevimento nuziale, debutto in società come marito e moglie come se fosse un abito sartoriale, una mise dal fascino intramontabile realizzata in un unico esemplare e cucita addosso ai protagonisti. Dalle nostre parti, soprattutto nel centro-sud Italia, la regola è la frase principale che al termine dell'evento gli sposi hanno abitudine di dire anche se utilizzando anche un po' uno slang anglosassone abbiamo mangiato bene e ci siamo divertiti. Per cui abbiamo mangiato bene e l'organizzazione del matrimonio sono sicuramente fondamentali e tra virgolette di responsabilità della struttura a cui ci si affida. Ci siamo divertiti è assolutamente fondamentale l'intervento da parte di chi cura l'aspetto musicale e artistico durante il matrimonio. Per cui io dico sempre il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Non è una mia citazione ma una citazione di Bob Marley. I futuri sposi sono un mondo a parte, un piccolo universo fatto di emozioni, aspettative, desideri e sogni strettamente personali. Ogni coppia porta nel proprio matrimonio gran parte di sé, ponderando ogni scelta in base alla propria personalità, partendo da un filo conduttore che li rappresenti. Il ricevimento nuziale è il momento di condividere la felicità per il traguardo raggiunto con le persone care. Un'emozione per sempre offre tutti gli ingredienti per un giorno da sogno, qualcosa che neanche gli ospiti potranno dimenticare facilmente. A partire dalla location, splendida masseria nobiliare del Settecento appartenuta ai principi De Angelis e dai baroni Noia. L'intenzione è quella di trasformarci da contenitore a contenuto. San Rà è una bellissima realtà oggi sul palcoscenico del wedding della provincia di Bari e oltre ed è un bellissimo contenitore. Con queste iniziative vogliamo cercare di essere un contenuto al servizio degli sposi che non sono degli esperti delle organizzazioni di matrimonio e quindi offrire loro il meglio possibile sul palcoscenico delle offerte del wedding. Abbiamo in cantiere di realizzare un villaggio, qui perché questa è una tenuta di 50 ettari e all'interno di questa tenuta innanzitutto stiamo dando sviluppo a una realtà agroalimentare straordinaria che è quella del melograno e annessa a questo progetto c'è quella appunto di un villaggio centro benessere con una cinquantina di trulli e con lago, mini golf, divertimento. Benvenuti da Maria Lilluzzi, quarta edizione di Un'emozione per sempre. Ancora un grande successo di pubblico per questa festa per gli sposi, luogo d'incontro privilegiato con professionisti del matrimonio. Un'occasione da non perdere per scegliere al meglio l'abito da sposa, la wedding planner, la colonna sonora della giornata, il fotografo, il parrucchiere ed il truccatore. Spazio anche ad uno staff di professionisti che si occupa del divertimento a tutto tondo per stupire gli invitati con caricaturisti, artisti del fuoco, trampolieri e ballerini. Intuire i desideri degli sposi inventando ogni volta una festa completamente nuova e questa è la chiave del successo di un'emozione per sempre. Già in preparazione la quinta edizione di questo evento che celebra l'amore e le sorprese di sicuro non mancheranno.